Quest'anno le cose sono cambiate e per far sì che questa cosa non succeda abbiamo reso le missioni e la tratta molto molto più difficile. Sì, infatti l'anno scorso mi ha morso un animale che non abbiamo identificato, è stato un dramma, ho quasi perso un braccio e poi cos'altro mi è successo? Sono caduto sul mio volto, senza neanche mettere le mani avanti, sul fiume Mekong e mi sono fatto molto male, pensavamo che non potessi nemmeno andare in video dalla bruttezza, io mi sono vergognato molto ma sono andato così com'ero. Le coppie scelte soffriranno molto, soffriranno molto però li vorrò tanto bene io, li vorrò tanto bene io, ecco io li darò l'amore mentre il capo progetto Cristiano Rinaldi di Magnolia che è un po' il cattivo li vescerà tantissimo. Ma a me sembrano molto forti ovviamente la coppia degli eterosessuali perché sono degli sportivi, uno fa addirittura parkour e l'altro è un rallyista quindi insomma loro sono un po' avvantaggiati da quel punto di vista. E' assolutamente vero, sono stato dieci giorni a Roma per incontrarla, l'ho incontrata, sono innamorato di lei follemente, però ahimè è un'abituata a dei livelli di lusso, mi ha detto io vado tutte le sere in dei ristoranti stellati Michelin, non è che posso venire lì nel disagio, ho detto va bene Agna, va bene, è una che non si vede in televisione proprio dagli anni di Tangentopoli, un genio, un'icona dei film di Dario Argento, Mater Lacrimarum. Ti posso dire che la prima parte sarà molto molto difficile alla Brimania perché è una parte del paese dove prima veramente non avevano aperto le porte al turismo, andranno a dormire in certi posti dove non ci sono i bagni, non c'è nulla, dopodiché la Malesia è, si sa, un paese molto ricco e lì troveranno tutto quello che vorranno per poi tornare nel disagio di Java. Un saluto a TV Zoom.